Il Wi-Fi è fantastico, no? Puoi navigare ovunque, nei caffè, all'aeroporto, in biblioteca. Ma se usi un Wi-Fi pubblico, ti possono spiare. È facilissimo. Sì, i tuoi dati sono accessibili. Basta premere un pulsante. Anche il tuo provider, sai, può vedere tutti i siti che visitano. Private Internet Assess ti protegge. Come? Beh, è un po' cervellotico, ma in parole semplici, gli spioni e le aziende che ti tracciano ci detestano. Noi creiamo un tunnel triptato che impedisce di spiarti. Forniamo anche anonimizzazione dell'IP, che vi dà accesso all'Internet senza restrizioni da qualsiasi luogo. Registrati subito e sii invisibile online. Come dovresti. All'internet senza restrizioni da qualsiasi luogo. All'internet senza restrizioni da qualsiasi luogo. All'internet senza restrizioni da qualsiasi luogo. Grazie a tutti.